Abbiamo messo un comitato che darà a tutti quanti un'indicazione di quelli che sono gli atleti da votare e quindi con la possibilità di tutti quanti di dare un'indicazione e quindi venire dal basso un discorso di premiazione di questi ragazzi di oggi, ieri e domani. Una veste totalmente rinnovata e il coinvolgimento della cittadinanza nella scelta degli atleti del passato, del presente e del futuro, meritevoli del riconoscimento. Arriva alla sesta edizione il premio Nicolaos, evento che fa rima con solidarietà etica e valorizzazione del territorio. L'appuntamento è per il 2 ottobre prossimo al circolo Canotieri Barion, ma la macchina è già in moto, come dimostra il regolamento presentato nella sala giunta di Palazzo di Città. D'altro canto, spiegano gli organizzatori, sotto i riflettori non finiscono solo i grandi campioni, ma pure le storie di chi ha dedicato la propria vita allo sport, con tenacia e dedizione. Nella platea degli aspiranti al titolo, sportivi nati nell'area metropolitana o che sono stati testerati con società sportive del capoluogo e che nel corso della loro carriera agonistica hanno dato lustro alla provincia barese, un'apposita giuria selezionerà i papabili che potranno essere votati attraverso una pagina appositamente dedicata sul sito sportale.it. Siamo arrivati alla sesta edizione e quindi pertanto quest'anno abbiamo ampliato lo staff, infatti Sportale ci aiuterà in questo tipo di discorso per portare il premio sempre a un livello superiore.